video della serie di Fortnite oggi siamo ancora qua una volta su Fortnite Battle Royale per cercarci di farci una buona partita in singolo ovviamente come vedete siamo sui soletti a pinnacoli pendelli perchè a me piace morire 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 Ero là che cosa volete niente che io non sono io non ho letto fare queste mappe comunque sono a pinnacoli e mi sono già fatto 5 kill con una R si no scusa una kill ho tre colpi di R ti mando la clip ma voi ragazzi che cosa state facendo ma che cosa ma siete ancora in creativa voi ho trovato uno scar è epico buono ma voi siete ancora in creativa raga ok perfetto che non verò mai più che cosa Raga, vi posso dire come ho fatto una killa a pinnacoli in pratica c'era uno sulla torre e io l'ho fatto 22, 22, 22 poi l'ho morto Yuc Yucampero No, è 20 poi non è che le posso fare sempre, dipende anche Io sono a pinnacoli raga, 30 persone vive Uh, sei lì te? No, sono morto, non dammi una caduta No, me l'ho fatto 3 kill No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no